La mostra Human Landscapes Quindi siamo convinti che siccome P.T. è ancora una manifestazione molto importante abbiamo deciso di farla qua E la mostra in cosa consiste nello specifico? Ma allora questo è un progetto che era stato presentato da Morrison qualche anno fa E ci è piaciuto molto perché oltre ad essere un bravissimo fotografo secondo me è un artista Perché è riuscito tanto a fotografare dei personaggi che non sono dei modelli quindi presi per strada E è riuscito a portare questa autenticità nelle sue fotografie, nei paesaggi che ha fatto E ti dà l'impressione di essere veramente dentro in America Quindi l'idea è stata bella ed è anche un progetto di cultura, non è solo un servizio fotografico Quindi a noi è piaciuta molto trasmettere questa sensazione che vedete Con delle fotografie, con dei personaggi presi per la strada, veri E ha portato veramente l'autenticità dell'America Quali sono le principali novità presentate da Blower in occasione di P.T. Immagine 97? Ma noi siamo sempre attenti un po' alla ricerca, ai materiali Diciamo che di nuovo c'è un po' un ritorno di nuovo al cappotto, alla lana E noi l'abbiamo interpretato alla nostra maniera In più ci sono anche i tessuti tecnici che incominciano a essere importanti Perché sono comodi, sono veri E noi li abbiamo fatti diventare un po' più spotware, diciamo, più adatti a noi E devo dire che un po' il futuro, visto anche il clima Abbiamo tantissimi capi con interni staccabili Quindi diventano quasi dei four season Parlando del giro d'affari e dell'azienda, come si è concluso il 2019? Ma noi quest'anno siamo riusciti a fare, rispetto all'anno scorso Ancora circa un 20% in più Quindi stiamo andando molto bene Anche dovuto al fatto che stiamo allargando un po' l'estero Quindi un mercato estero per noi importante Estero vuol dire mondo Noi incomincieremo da questa stagione anche in America Finora non abbiamo fatto niente in America Quindi abbiamo delle prospettive che sono buone A livello distributivo invece ci sono novità dal punto di vista retail? Ma è certo che l'ideale sarebbe poi poter avere anche dei retail propri, diretti Perché un po' il futuro è un po' l'online Il negozio diretto O il shopping shop in un magazzino Questo è un po' il futuro dell'abbigliamento Quindi ci stiamo organizzando per affrontare anche questo Come procede il vostro percorso green? Ma noi se voi ricordate ci sono stati forse i primi Già 4 anni fa Diciamo che è interessante Noi quest'anno rispetto all'anno scorso Siamo riusciti anche a fare un piumino con il cashmere riciclato Quindi qualcosa in più Io credo che la gente incomincia solo adesso A capire e apprezzare un po' il recycle Ecco quindi speriamo che continui